Eseguito all'ospedale Careggi di Firenze il primo trapianto di rene in Italia da donatore a cuore fermo in chirurgia robotica d'urgenza. Gianluca Vatti. Si tratta del primo trapianto di rene in Italia da donatore a cuore fermo mediante chirurgia robotica d'urgenza. È la prima volta in un ospedale italiano che le due tecniche del prelievo a cuore fermo e del trapianto con robot chirurgico sono portate a termine nella stessa struttura. L'intervento è stato eseguito dalla chirurgia robotica mini-invasiva e dei trapianti renali diretta dal professor Sergio Serni. La procedura è particolarmente complessa perché permette il prelievo in assenza di battito cardiaco grazie al sistema ECMO che consente la circolazione extracorporea e che mantiene l'ossigenazione degli organi che altrimenti si danneggerebbero irreparabilmente rendendo impossibile il trapianto. La novità dell'ultimo trapianto è stato il fatto che il rene è stato appunto donato da un donatore a cuore non battente con tutta la necessità organizzativa che richiede. Dopodiché il rene è stato possibile trapiantarlo grazie alla disponibilità in urgenza del robot con la chirurgia robotica. L'utilizzo del robot nel trapianto renale consente di ridurre al minimo i giorni di degenza post-operatoria grazie ad un'incisione tre volte più piccola rispetto alla chirurgia tradizionale.